Buongiorno studenti! Pratichiamo il nostro ascolto in italiano ed espandiamo il nostro vocabolario con una nuova parola da indovinare. La parola di oggi è una pianta, però non pensare ad una pianta piccola perché di solito questa pianta è grande, è abbastanza grande. Questa pianta è composta da una parte centrale che si chiama fusto, una parte sotto la terra cioè le radici e poi c'è una parte alta con i rami e le foglie. Come si chiama questa pianta? Scrivilo nei commenti qui sotto. Ciao da Valentina!